Grazie all'accordo raggiunto e ad un apposito finanziamento ministeriale tuteliamo ancora di più i minori che sono la nostra priorità, preveniamo e contrastiamo lo spaccio di sostanze stupefacenti, ci mettiamo in rete con le forze dell'ordine e introduciamo nuovi strumenti di lotta ad ogni forma di criminalità e di legalità. Facciamo un ulteriore passo in avanti nell'interesse dei cittadini per il bene comune. Lo afferma in una nota la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, a proposito della recente firma di un protocollo d'intesa tra lo stesso comune e la prefettura di Cosenza, volto a migliorare la sicurezza urbana nella città silana. Nell'ambito dell'accordo aggiungono il vice sindaco di San Giovanni in Fiore, Salvatore Cocchiero, e l'assessore comunale all'istruzione, Antonello Martino, e tra l'altro prevista l'installazione di telecamere di videosorveglianza negli spazi urbani più frequentati, in luoghi di culto religioso e di interessi turistico sportivo, come nei punti di accesso alla nostra città. L'obiettivo primario è proteggere i giovani e aumentare la sicurezza di tutti i sangiovannesi. La nostra attenzione per la legalità non si limita al potenziamento del controllo del territorio, per cui, peraltro, abbiamo già chiesto al Ministero dell'Interno di assegnare a San Giovanni in Fiore un commissariato della Polizia, che riteniamo utilissimo. Da tempo, infatti, promuoviamo, conclude la sindaca Succurro, la cultura della cittadinanza attiva e consapevole, insieme alle scuole e alle associazioni cittadine, con iniziative culturali e di coinvolgimento delle nuove generazioni in progetti di crescita personale all'interno della nostra comunità.